Allora, innanzitutto, per dare il nostro salmo responsoriale a Mario Draghi, puntiamo con il nostro volto in direzione della Banca Centrale Europea e del suo sacerdote, la Lagarde, che noi tanto amiamo, come Giuseppe Borrell, che vorremmo stringere forte forte la Lagarde, sì, un abbraccio forte. Vi ricordo che il nostro partito, il partito della fertilità, vuole fare la Bruxit, e vi invito a guardare la puntata precedente. Allora, Winston, sei pronto? Non ho gli occhiali, non ho gli occhiali. Come non hai gli occhiali, Winston? Ho gli occhiali, non vediamo. Per giove, non mi fare... Allora, non lo so, improvvisa, io leggo e tu improvvisi. Scusate, quello senza occhiali è cieco. Oh, non vedere niente. Non ti lamentare adesso, non farmi la vittima, per cortesia. Anch'io ho male ai denti, eppure sono qui. C'ho un male ai denti pazzesco, cosa credete? Ma il dolore è soprattutto un dolore psicologico che va affrontato. Quindi, Winston, stai buono e rispondi dopo di me. Attenzione! Mario! 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 Tu che sei il salvatore! Tu che sei il signore dell'universo conosciuto! Amen! Tu che comandi i massimi centri finanziari! Salvaci! Salvaci, Mario! Salvaci! Thank you! Mario! Mario! Tu che hai interrotto la guerra in Ucraina, abbassando il condizionatore di solamente un grado, proteggici! Protect us, Mario is the Lord! Yes, amen! Tu che hai fatto carne di tua figlia, Giorgia, di modo che potesse portare il tuo messaggio e diffonderlo in tutta Italia! Amen! Veglia su di noi! Mario! Mario! Mario, noi chiediamo di proteggere questa trasmissione stasera e di fare il miracolo perché tu solo è il messia, tu solo è il salvatore e parti con la musichetta Enrico! Tu solo, Mario, sei capace di fare questo per noi! Tu rappresenti la nostra vera fede, l'unica fede importante! Sì, cosa? Winston, cosa succede? Winston, è un miracolo! Cosa? Ci vede? Attenzione, è un miracolo! Mario Draghi ha fatto un miracolo! Winston ci vede! Sì! Oh! Yes, I can see! Il maledente! Winston è passato! Questo è un miracolo! È stata una trasmissione benedetta! Allora possiamo andare avanti! Ernesto, vai avanti! Vai con la sigla! Questo è il Mussolini Show!